Antonio Leonardi, direttore tecnico del Volley Club Alto Tevere Umbro, oggi è stata la festa del settore giovanile della San Giustino. Che dire, tanto entusiasmo e tanta partecipazione? Sì, una cosa discreta anche dal punto di vista di immagine. Abbiamo avuto questa grossa partecipazione da parte di tutti i nostri piccoli atleti, chiamiamoli così. Per questo voglio ringraziare anche i genitori che sono sempre disponibili a questo tipo di manifestazioni, che per noi sono ossigeno, in quanto comunque danno visibilità ai nostri sponsor, dei quali non possiamo assolutamente farne a meno. Colgo l'occasione per ringraziarli tutti e spero che questa collaborazione continui per molti anni ancora. C'è da dire che tre anni fa, quando sei partito, sembrava una scommessa. Questa è una scommessa dopo tre stagioni, lo possiamo dire, è stata vinta. Sì, i risultati ci danno ragione, in quanto in tre anni abbiamo, scusate il gioco di parole, ma triplicato le iscrizioni. E quindi per noi è una grossa soddisfazione, perché vuol dire che stiamo lavorando bene. Avere tutti questi bambini che vengono a svolgere l'attività pallavolistica da noi. E questo ci fa piacere perché i genitori ci dimostrano fiducia. C'è tanta fiducia infatti da parte dei genitori di questi bambini che vengono ad allenarsi settimanalmente da voi. C'è anche da fare un grandissimo complimento alla seconda divisione, che si sta comportando in maniera egregia. Era il primo obiettivo, creare il settore giovanile, ma anche creare qualcosa che fosse il naturale sfogo di questi atleti. Esatto, è partito proprio con questo tipo di discorso qua. Dare un proseguio alle squadre giovanili che uscivano dai campionati giovanili. È stata una scommessa che momentaneamente ci sta dando anche ottimi risultati, come del resto anche tutte le altre squadre che partecipano ai vari campionati. Ci stiamo ben comportando su tutte le categorie. Professor Fausto Polidori, responsabile dei rapporti con il settore giovanile. Hai l'incarico di sviluppare questo grandissimo progetto di Vivi Alto Tevere che vuol unire questo territorio sotto il segno della pallavolo. La base di ogni qualsiasi società dovrebbe essere un intervento prima di tutto sul sociale perché da questa base potranno in futuro svilupparsi molti canali, quello agonistico sportivo, veramente anche più di alto livello sportivo. Senza di questa base non è possibile strutturare. La proprietà Chemon, o meglio dire il marchio Vivi Alto Tevere, si è data questa base che avrà uno sviluppo a 360 gradi a largo raggio e quindi è un intervento sul sociale che non potrà essere altro che un elemento in più di positività in quest'alta valle del Tevere. Quanto conta per questi bambini avere come punto di arrivo, come pietra miliare, la squadra che gioca in Serie A1? Io ho avuto la possibilità di entrare nel consiglio di amministrazione del Vivi Alto Tevere e ho trovato da parte di tutti i partecipanti una condizione ideale per sviluppare questo. E quando siamo andati a affrontare al meglio il discorso di tipo tecnico, sia per i giovani sia per i più grandi, il canale di contatto, il canale di unione fra il mondo dei giovani e il mondo della prima squadra, possiamo dire, è stato prima di tutto condiviso da tutti i partecipanti al consiglio di amministrazione, ma anche ritenuto come elemento predominante per impostare bene un sano progetto di sport e perché no anche per l'alto livello. Sappiamo e qui chiudiamo che il 2013 sarà un anno importante, un anno di svolta, un anno che porterà tante novità. Sì, tante novità sicuramente. E questa è dimostrazione di energia, di vitalità, di non staticità nell'ambito progettuale, ferme restando alcune condizioni. Uno, lo sport deve avere una base sociale e questo è determinante, non è un slogan ma è veramente un elemento da rendere pratico. Quindi una partecipazione globale, un mondo di esperienze che si accomunano e questo ribadisco, è base anche per inserire lo sport di alto livello. Con il presidente del Volley Club Alto Tevere, Umbro, primo step abbastanza positivo, c'era tanta gente alla presentazione ufficiale della tua società. Sì, ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti, dalle famiglie dei nostri iscritti, all'autorità, ai sponsor, al personale tecnico. Effettivamente c'era molta gente, siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto quest'anno dopo tre anni di attività dove siamo presenti noi come nuovo staff dirigenziale. È stata una bella mattinata soprattutto per presentare la squadra e farsi gli auguri con le famiglie. Lo vogliamo fare almeno una volta all'anno, vogliamo ringraziare tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte, che spendono molto del loro tempo libero con il volontariato per portare avanti questo bellissimo progetto sociale e sportivo. Sì, assolutamente, perché senza il loro contributo sarebbe molto difficile gestire questa quantità di ragazzi. È un contributo fondamentale, sono molti i dirigenti volontari che spendono molta parte del loro tempo libero in palestra, seguendo gli allenamenti, seguendo le squadre in trasferta. Ora non sto a menzionarli tutti uno per uno perché sono veramente tanti però il loro rapporto è veramente fondamentale e lo fanno veramente con il cuore.